Nuove dinamiche amorose nella casa del grande fratello. All'interno della casa del grande fratello, si stanno sviluppando interessanti storie d'amore. Le relazioni tra i concorrenti stanno suscitando particolari attenzioni, con interazioni che promettono sorprese e colpi di scena. In questo contesto, principali protagonisti sono Shaila, Lorenzo, Javier, Iulia e Giglio. Iulia e Giglio. Una connessione in crescita. Durante un confessionale, Iulia ha espresso il desiderio di approfondire la sua relazione con Giglio, affermando, non voglio precludermi nulla. Le emozioni sono a mille e voglio pensare a me. Questo lascia intendere che, se le condizioni lo permetteranno, si potrebbe sviluppare qualcosa di significativo tra i due. Dubbi e incertezze? Le promesse di Iulia. Un argomento di discussione è rappresentato dalla persona che Iulia attende fuori dalla casa. Durante una diretta, ha dichiarato. Non ho fatto promesse a questa persona, chiarendo che la situazione attuale è da considerarsi temporanea. Ha inoltre rimosso l'anello di fidanzamento che portava, spiegando che, mi dava fastidio che venisse sempre fuori. Nonostante tutto, l'attrazione tra Iulia e Giglio è evidente, confermata anche da Alfonso Signorini e Jessica Morlacchi, che hanno notato la forte alchimia tra i due. Le aspirazioni di Giglio. Giglio desidera procedere oltre una semplice amicizia e ha manifestato l'intenzione di, fare un passo in più, verso Iulia. Quest'ultima ha aperto la porta a questa possibilità, affermando che, il rapporto sta crescendo sempre di più con buone basi. Entrambi si stanno avventurando in una nuova fase di conoscenza, con l'intento di scoprire eventuali sviluppi futuri.